mi chiamo Sforo e ho preso amati di Vigangiano ho avuto un po' come la nana e come la chissà ho avuto un po' come introduzio i ticchets con il mio rapporto con il mio amico 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 quando ci sono state le ponte di rinnovazione o un problema, avevo un po' delle ponte di rinnovazione e l'avozione di un po' di costruzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.